La giornata della ricerca italiana nel mondo, che coincide con la data di nascita di Leonardo da Vinci, ci invita a una riflessione sul contributo delle donne e uomini di scienza del nostro Paese allo sviluppo scientifico-tecnologico e al progresso della conoscenza e dell'innovazione dell'intero pianeta. I loro talenti meritano di essere sostenuti da un adeguato livello di investimenti in ricerca, che sono investimenti nel nostro stesso avvenire, oltre che per i e propri moltiplicatori di ricchezza, per assicurare alle giovani generazioni un futuro più prospero e più sostenibile. A tutte le ricercatrici e ricercatori italiani nel mondo, un riconoscente apprezzamento e i più sinceri auguri di successo. Sergio Mattarella Grazie